Ciao ragazzi, in questo video vediamo un esempio veloce di analisi grammaticale questo perché mi vorrò più che altro soffermare sull'analisi logica e l'analisi del periodo l'analisi grammaticale dovremmo essere già in grado di farla in seguito a tutti i video che ho già caricato qui sul canale perché si tratta di un tipo di analisi che ci permette di individuare, classificare e definire tutte le parti del discorso che sono presenti all'interno di un testo il termine testo è generico perché con testo posso intendere una frase semplice, una frase complessa, un periodo, un testo lungo anche un romanzo intero se vogliamo, però certamente per effettuare l'analisi grammaticale di un testo come un romanzo insomma ci vorrebbe una vita, molto molto tempo quindi l'analisi grammaticale si effettua parola per parola e qui vi ho fatto un piccolissimo esempio per capire di cosa parliamo analizziamo dal punto di vista grammaticale la seguente frase gli alunni vanno in classe per assistere alla lezione quindi è una frase abbastanza semplice, abbastanza breve e vediamo un po' come ci si comporta quando io andavo a scuola e penso che ancora adesso facciano così quindi si incominciava a scrivere analisi e poi parola per parola si faceva la descrizione appunto delle singole parole quindi iniziamo dalla prima parola che troviamo nella frase gli che cos'è gli? è un articolo determinativo maschile plurale quindi articolo determinativo abbiamo già visto che cosa sono gli articoli determinativi e anche quelli indeterminativi è maschile ed è plurale si riferisce a che cosa? alla seconda parola alunni che è un sostantivo maschile plurale quando andavo a scuola si utilizzava a dire ora non so ancora non so se sia ancora così non so se è ancora così però si utilizzava a dire anche nome comune di persona nel caso di un nome proprio come Maria, Luca, eccetera si utilizzava a dire nome proprio di persona mentre alunno, dottore, infermiere quindi nomi dei mestieri e simili venivano chiamati nomi comuni di persona in ogni caso in modo generico alunni è un sostantivo ed è maschile plurale infatti perfettamente concordato con l'articolo che lo precede vanno gli alunni vanno vanno è la terza persona plurale dell'indicativo presente del verbo andare quindi come prima cosa si definisce la persona prima, seconda, terza singolare oppure se prima o terza persona plurale modo verbale, indicativo tempo verbale presente di quale verbo? del verbo andare in semplicissimo se ci ricordiamo che le preposizioni semplici sono di, a, da, in, con, su, per, tra, fra ci ricordiamo benissimo che in è una preposizione semplice non è importante specificare il suo significato o altri dettagli l'importante è che individuiamo proprio di che cosa si tratta di che parola è quindi in preposizione semplice classe che cos'è classe? classe è un sostantivo femminile singolare che quando andavo a scuola io poteva essere definito anche come un nome comune di cosa quindi un nome di cosa un nome comune di cosa per è un'altra preposizione semplice come in assistere che cos'è assistere? abbiamo visto da poco l'infinito infinito presente del verbo assistere quindi semplicissimo alla che cos'è alla? è una preposizione articolata quindi non semplice ma articolata formata dalla preposizione semplice a e dall'articolo determinativo femminile singolare la quindi alla è formata da a più la la prima è una preposizione semplice e il secondo è un articolo determinativo femminile singolare quindi anche qui definiamo che cos'è che parte del discorso è è il suo genere e il suo numero lezione che cos'è lezione? è un sostantivo femminile singolare se fosse stato lezioni sarebbe stato un sostantivo femminile plurale oppure chiamato come vi dicevo prima un nome comune di cosa femminile singolare quindi questo è tutto ora qui è un'analisi molto semplice molto breve perché è una frase semplice però non sono neanche presenti tutte le parti del discorso che ho spiegato nei video precedenti ce ne sono tantissime quindi mancano ad esempio gli aggettivi mancano le particelle pronominali i pronomi comunque insomma dovreste già essere abbastanza in grado di fare un'analisi grammaticale magari più avanti ne vedremo altre di più dettagliate se volete potete farmi anche degli esempi nella pagina facebook scrivermi per posta privata per vedere se avete capito come si esegue appunto un'analisi grammaticale quindi niente di particolarmente difficile basta semplicemente ricordarsi e studiare un pochino le parti del discorso e anche i verbi perché anche il verbo è una parte molto variabile del discorso è molto importante e quindi niente per questo esempio di analisi grammaticale è tutto quindi anche per questo video è tutto vi ricordo i miei contatti che sono il canale youtube questo dove state vedendo il video quindi iscrivetevi la pagina facebook disgrammaticando scusate il profilo twitter e fate tanti esercizi sul sito www.impariamoitaliano.com grazie per avermi seguito e al prossimo video grazie per avermi seguito